Sono Paola Piva, sono arrivata alla magra perché in questo momento della mia vita e della mia età cercavo un respiro lento, attenzione e competenza. Mi sono trovata molto bene, assieme ad altre donne abbiamo organizzato una giornata sui temi dell'expo. L'expo come attenzione alla terra, a tutto ciò che ha a che fare con la vita quotidiana e alle cose semplici. Ho sensibilizzato così il gruppo con il quale mi trovo il sabato per una lettura dei testi biblici e assieme abbiamo deciso di contribuire all'acquisto di un mattone solidale. Tutto bene, niente di meglio potevamo fare. Grazie.